Tre amici, tre docenti, amici ovviamente di cinematografo, per giudicare l'offerta di questa settimana. Avete sentito i nostri amici critici? L'offerta dei film di questa settimana è particolarmente interessante, prevalentemente dall'avversante della cinematografia italiana, perché ci sono diverse pellicole che hanno estrazioni diverse, storie diverse, ma tutte fondamentalmente che triangolano una riflessione molto curiosa e molto affascinante sui tempi che stiamo vivendo e soprattutto sul passato dei tempi che stiamo vivendo. Mi riferisco ad alcune pellicole, per esempio, ambientate negli anni Ottanta. Per quanto mi riguarda, sicuramente la pellicola che ha di più attirato la mia attenzione è sicuramente educazione fisica, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché tratta un tema molto spinoso, che è quello appunto del rapporto fra genitori e figli e soprattutto della difesa dei figli da parte dei genitori, anche in situazioni in cui questo tipo di strategia sarebbe molto difficile ed eticamente problematico da utilizzare. Ma anche per l'ambientazione, perché questa dimensione claustrofobica della palestra, dove c'è uno scontro di punti di vista diversi e così via dicendo, anche la messa in scena secondo me rende questo tipo di riflessione ancora più delicata. Un altro film che mi ha interessato è il documentario Le Mura di Bergamo, sicuramente perché abbiamo bisogno di capire cosa sia successo durante il periodo della pandemia e soprattutto andare a cercare proprio nei luoghi che sono stati maggiormente protagonisti, in senso negativo ovviamente, dell'ondata pandemia. Quindi sicuramente Bergamo da questo punto di vista può testimoniare, e soprattutto le persone, gli abitanti di Bergamo, posso testimoniare che tipo di esperienza sia stata quella della pandemia da Covid-19. Poi per quanto riguarda una dimensione diciamo così un po' più spensierata, sicuramente What's Love, perché sicuramente è una commedia, quindi poi c'è Emma Thompson che è un'attrice che a me piace molto, ma mi piace molto soprattutto questa dimensione del fatto che due persone di due mondi diversi, uno indiano e uno inglese, comunque abbiano delle prospettive, pur vivendo nella stessa città abbiano delle prospettive e delle condizioni di vita molto molto diverse che hanno bisogno di incontrarsi e scoprirsi l'uno rispetto all'altro. E poi mi è sembrato di capire che ci siano anche delle riflessioni molto interessanti sulla questione dei matrimoni combinati, che è una pratica indiana con tutto quello che questo porta con sé. E poi c'è un altro film, io sono appassionato di horror, che è Gli occhi del diavolo, anche se la sensazione mia è che il cliché sia sempre quello ormai inaugurato e non credo facilmente superabile dell'esorcista. Però questa componente femminile in cui c'è una, diciamo così, una suora che deve fare il ruolo di un esorcista, quindi una lettura in chiave femminile, secondo me potrebbe aprire delle strade di riflessione che è tutt'altro che, diciamo così, prevedibili. E poi infine ci sarebbe Shazam, però devo dire la verità, io ormai ho perso speranza nel trovare interesse nei film di supereroi, siano essi Marvel, quelli un po' più brillanti, sia quelli di DC Comics, come in questo caso in particolare, e quindi sicuramente lo cito più che altro perché sono legato affettivamente a questo tipo di immaginario, ma non credo che andrò a vederlo.